Gli stranieri in provincia sono una presenza ormai affermata da anni, protagonisti di un crescente radicamento nella nostra società. Non sempre però gli ingranaggi dell'accoglienza da parte della popolazione locale funzionano al meglio. A destare allarme negli ultimi mesi, soprattutto in ambito nazionale, l'alta incidenza di episodi di cronaca nera a sfondo razzista sparsi un po' per tutto lo stivale. Nonostante a Sondrio non si siano registrati accadimenti di rilievo, la guardia rimane comunque alta, soprattutto da parte di coloro che ben si integrano nel tessuto sociale locale, anche a livello lavorativo ed economico. Profilo esemplare in materia è Vicky Chimanga, originario della Repubblica del Congo, lavora come dipendente della ASST Altolario e Valtellina ed è attivo anche sul piano politico. Per quanto riguarda Sondrio non ci sono problemi di ordine pubblico, come una certa caricatura vuole presentare, c'è una presenza di cittadini richiedenti asili o profughi o di immigrati che vivono qua che non hanno mai posto problemi di convivenza civile né di ordine pubblico, quindi l'integrazione c'è. La violenza fisica, quella che finisce sui giornali, è però spesso preceduta da un'anticamera fatta di discriminazione silenziosa, talvolta sottaciuta o anche verbale e manifesta. E non per questo meno grave. Io vedi c'è una certa diffidenza, rispetto a qualche anno fa, più di 30 anni fa, quando siamo arrivati in Italia, noi non c'era questa diffidenza, ma adesso si guarda con sospetto chiunque ha un colore, chiunque è nero, ma non è un motivo per non salvare le vite in mare, come qualcuno dice. Siccome c'è un business facciamo i controlli, ci sono le leggi, facciamo i controlli, piuttosto che dire allora, piuttosto non salvo neanche le vite in mare. Io penso che questa situazione di questo odio diffuso ci deve richiamare innanzitutto a ritornare a un po' di umanità e a fare un lavoro di promozione culturale, della cultura e dell'umanità. Scappare dalla fame, scappare dalle bomba, scappare dal disagio e comunque scappare da un posto dove si ritiene che non si può più stare. Quindi è la stessa, è chiaro che chi è profugo o chi scappa ha un canale diverso regolamentato dal diritto internazionale, da convenzioni internazionali e da altre leggi.